la sua formazione. Vince, passa il turno. Passa il turno il Panathinaikos pareggiando per 3-3 all'Infield in Irlanda del Nord dopo aver vinto l'andata 2-1. Ma qui la successione è incredibile. Segnano subito i giocatori di casa con Magoghi 1-0. E siamo sul 2-0. A un palo possibile per il Panathinaikos. Il Linfield va a segnare il terzo gol. Ecco, è un calcio di rigore. Maxwell, gol, nonostante il portiere avesse intuito. 3-0, quindi ormai Linfield è sempre sicuro. La rimonta del Panathinaikos. Ecco la squadra greca che va prima con Saravakos al primo gol con calcio di rigore. Poi realizza ancora il secondo gol con Roja e siamo 3-2. E poi ottiene con Antonio il 3-3. E il Panathinaikos confermando il momento splendido e incredibile dei greci.